Arkane arriva, 2x01, finalmente, finalmente, prima puntata, che bomba ragazzi, ora ve ne parlo, non spoiler, spoiler, io l'ho portato un video sulla prima stagione, analisi che ho rivisto dopo tre anni di distanza, quindi abbiamo dette di cose, andate a recuperarlo, ve lo metto qua in alto. Ora, vi spiego come saranno strutturate le uscite, siccome sono blocchi di 3, 3, 6, 9, ogni blocco di 3 un video al giorno, quindi oggi 9, 2x01, domani 2x01, domani 2x01, 2, lunedì 2x03. Poi, nell'Arca News, commenteremo con ospiti, il mio format del martedì, commentiamo con altri ospiti, quindi, spoiler pure lì, ogni 3 blocchi, poi ci sarà il video finale della serie, con i personaggi in classifica, tier list, ok? Sacco di bella roba. Iscrivetevi, supportatemi, anche perché ho un sacco di progetti, ce n'è uno sotto Natale, che è specialissimo, poi ve lo introdurrò quando sarò al 50% della realizzazione, perché è un po' lungo. Quindi iscrivetevi al canale. Quanto ci mancava, Arcane? 2x01. Quanto ci mancava? Tantissimo. Non ho visto le altre due, che farò così, quindi non posso, non sarò soggetto al, eh, ma nella seconda che succede? No, non l'ho vista. Mi prendo questa responsabilità, resisterò. No spoiler, che succede? È il continuo della seconda. Sì, è l'ultima puntata della prima serie, della prima stagione. È giusto che sia così. Esattamente giusto. Non spoiler, posso dire che il focus è su chi ha subito l'attacco. Ah, qua devo fare spoiler sulla prima. Spoiler sulla prima, ovviamente. Cioè, il razzo magico di Jinx è arrivato. Quindi ci sono delle conseguenze. Primo tempo, diciamo una prima parte più canonica, che mi stava facendo dire, beh, normale, inizio normale, dai. Se io penso all'inizio della prima stagione, non mi ha fatto impazzire il primo episodio proprio. Qua invece, dalla mia tempo, succede qualcosa di importante, di rilevante, e lì ci ho rivisto il vecchio Arcane. Quindi è una partenza col botto, si gode tantissimo, e, lato tecnico sempre straordinario, i personaggi sono rimasti come quelli di tre anni fa. Non è che hanno fatto i furbetti come alcune serie dove, eh, abbiamo sentito le critiche, che erano poche in realtà, nella prima stagione. Comunque, le critiche e li cambiamo, no? Anche se nella narrazione non avrebbe senso. No, no, no. Qua i personaggi rimangono. Nel trailer si vede una cosa che posso dire. Cioè, vai, passa ufficialmente dal lato delle guardie, quindi contro Jinx e contro l'Hunder City, contro l'I-City, la città dei ricchi, insomma. E quindi questo rimane, ed è giustificatissimo, e non è frettoloso con quello che poi succede nell'episodio. Quindi funziona. Anche i personaggi secondari qua sono un po' più elevati. Vorrei agguantarli, no, si scherza. E qua entra in scena un personaggio che io avevo già sospettato fosse bellissimo nella prima stagione, ma qui sarà un terzo incomodo, cioè la madre di Mel, personagione. Qua, già nel primo, spacca i culi a tutti. Mamma mia, può diventare, può diventare uno dei miei personaggi preferiti, alla faccia del fatto che io sono razzista, misogeno. Nella faccia vostra tutti i personaggi più belli di quest'anno sono o Sofia Falcone di, anzi, Sofia Giganti di The Penguin, forse questi personaggi qua, cioè Jinx e anche femminili, e ovviamente Across the Spiderverse con lei, Gwen. Alla faccia, no? Io sono misogeno, sì, sì. Alla grandissima andata. È anche razzista, ovviamente. E questo posso dirvi, lato tecnico, come nella, siamo abituati, narrazione impeccabile, grandi scritture, sanno anche giocare con l'aspettativa del pubblico, quindi super consigliato con un finalone. Dove c'è un personaggio secondario della prima stagione che qua spacca i culi, o mi sono gasato quando l'ho visto, l'ho vista, non ve lo dico in quel modo, ho detto, mazza, qua, oh, qua ne vediamo delle belle. Quindi, super consigliato, ovviamente, un buonissimo inizio, ho goduto tantissimo, anche dalle parti basse, e si va avanti con la parte spoiler. Ancheci in parte spoiler, andiamo, facciamo anche un po' una narrazione della storia, come facevo con The Penguin, che ho fatto con The Penguin, ma anche l'ultima puntata, cioè vi narro un po' la storia e intanto la commento. Ora, innanzitutto, quello che ho apprezzato è che si è incominciato esattamente alla fine della scorsa, quindi il razzo di Jinx arriva, non uccide Jace e Mel, qua te la buttano come coincidenza, ma in realtà non è una coincidenza, secondo me, perché la serie che è scritta è girata benissimo, ti fa, ti sottolinea che all'arrivo del razzo il vestito della super sexy Mel diventa più dorato, no? Fa quella specie di luce, no? Si illumina. Immagino sia un qualcosa che ha salvato la vita a lei e a lui, perché gli altri sono tutti morti. Il biondino, quello là del consiglio, finisce sulla sedia a rotelle ed è ovvio che la pace, che prima era sicura, perché tutti si vedevano di Jace, salta, che tutti ovviamente vogliono il sangue. È interessante come, se lo fa, diciamo, il punto di vista è un po' subdolo della narrazione, perché come puoi dire, beh, ma qua stanno supportando l'alta città, no? La high city. In realtà no. Nel senso che c'è il contrasto fra se muore qualcuno nel ghetto non frega niente a nessuno, però se muore qualcuno di ricco allora si fa la rivoluzione, no? In base a quanto denaro hai, quanto potere hai, eccetera. E chi è ricco si sente in diritto, diciamo, di attaccare. Come dire, hanno ucciso i nostri. Però, subito nella puntata, Vai che parla con Kathleen, che è la vedi mezzo fra l'alto e il basso, insomma, città, dice sì, ma anche questo modo, come vediamo per l'attacco, alla commemorazione, è un modo per dare spettacolo nella città bassa. Voi lo vedete come un attacco, cioè è un attacco, cioè torniamo a punto di forza della prima stagione, cioè entrambe le fazioni hanno dei motivi per menarsi forte, fortissimo direi, in un certo senso, perché, eh ma tu mi hai fatto questo, però tu mi avevi fatto questo, quindi tu mi hai fatto questo, e quindi non finisce mai. È una critica alla guerra, al conflitto sterile dell'eterno ritorno di che Nietzsche chiama, cioè la violenza chiama violenza, sangue chiama sangue, perché poi i personaggi evolvono. Quindi, torniamo un attimo all'inizio. Ovviamente la pace salta, ma salta anche per Jace, che inizialmente sembra appoggiare Mel, che era quella che voleva, sembrava la cattiva, per virgolette della prima stagione, perché era quella che voleva il potere, in realtà è quella che vuole la pace, ma è l'unica, perché sia Jace, sia Kathleen, che è diventata cattivissima, raga. E lo capisco, fighissima, gnocchissima, era tutta prima dolcina, no? Così un po' così. E invece adesso, oh, si è cambiata d'abito, c'è lo sguardo cattivo, manda affanculo, belli capelli, biondo del consiglio sulla sedia a rotella, e dice, oh, io sono la prima della mia famiglia, decido io, vaffanculo, andiamo là. Prendiamo Jinx, accalci nel culo, è anche peggio, uccidiamo chiunque si metta davanti a noi, ma con un approccio, diciamo, che è media, non è lanciamo la bomba, lanciamo le spuole di tutti, no? Cerchiamo comunque di salvare, perché in questo senso si aggiunge vai alla squadra delle guardie. Era anche prevedibile, questo è l'unico difetto che c'era nel Taylor, era un modo per vendere la serie, perché vai contro Jinx, te la vendi da sola, no? Essenzialmente. Quindi questa è la parte iniziale finale, che è magnifica, con quel montaggio finale, dove Jace forgia le armi, mentre Catherine le sta mostrando al Consiglio che fa, sì, vabbè, voi ci andate, siete tre stronzi, che avete di speciale rispetto al vecchio esercito, insomma, alle guardie, no? Chi siete? E ci hanno le armi con Epsilon, Exilon, vabbè, non lo so di, con la roba, con la pallina magica, che questo è un po' il senso. Sempre sulla politica, per poi spostarci sul resto, c'è grande ambessa, la madre di Mel, come si chiama Mel, lei, Mel, Medarda, ambessa Medarda, personaggio. Si è già imposto con una sorta di dito corto, quindi può essere, entrare già nelle mie grazie, perché sta approfittando della guerra per far sviluppare le armi con la tecnologia Super Magic, e sta spingendo già, letteralmente, spinge la carrozzina del biondo, che è finito sulla sedia, a rotelle, come per dire, sosteniamo la guerra, perché servono anche a me. Vi ricordate il discorso fra Mel e la madre nella prima stagione? Io sì, l'ho visto da poco, dice, tu devi sviluppare queste armi anche per aiutarci, visto che tuo fratello è morto, devi tornare a casa, magari con questa tecnologia, nelle armi. Anche se, Mel, un po' per la madre, perché sa che forse qualcuno ha aiutato i ribelli a entrare nella cerimonia, forse la madre ce l'inquiata sua su di lei, ma forse non è così facile, anche se il sospetto è molto forte perché se Ambessa avesse aiutato i ribelli così da creare morte e distruzione è di conseguenza, no? Però sembra troppo facile, perché l'inquadratura stinge su di lei, certo, dal punto di vista di Mel, però vedremo, vedremo. Poi c'è Victor, che deve essere salvato da Jace, che lo mette direttamente nella... io non so come chiamarlo, nel liquido magico, non so come chiamarlo, raga, poi me lo studio la prossima volta il nome, perché abbiamo visto che nella prima stagione ci mettevano del sangue e altre cose e crescevano i fiori, per esempio, quindi ce lo buttano direttamente e sulla fine della puntata vediamo che apre gli occhi. Voglio chiudere, proprio sull'ultimissima scena, poi vado sullo sconto, diciamo, sulle mazzate forti, lo scienziato pelatone, come lo chiamo io, della prima stagione, che fa cose con i lupi dagli occhi strani. Vuole creare un nuovo mostro? Lo so. Questa è la tipica scena post-credit, in realtà, non so. È per farti dire uuuuh, vedremo, vediamo. Andiamo sullo sconto, bellissimo, davvero bellissimo. E chi è che uccide la tipa con i tubi? Ci ho messo 10 minuti per trovare il nome e non l'ho trovata, voglio metterci una foto, ovviamente no, qualcuno me lo scriveva sotto là, la tipa con i tubi, che va al, non al ricevimento, alla commemorazione per i morti, per i caduti, con quell'abito signorile che in realtà le copie il viso, ovviamente, come fosse una vedova, cerca di uccidere Jace, e proprio uccida da Mel, no da Mel, scusate, da Ambessa, con questa maschera che la fa cattivissima, che già nella prima stagione sembrava un amazzone, adesso, oh, cattivissima perché ha un suo esercito, quindi fa capire che si vuole inserire questo consiglio che ha pochissimi membri, che ha Jace, Mel, sua madre, tizio biondo, abbiamo finito, qualcuno si deve unire, e Kathleen, suppongo che in qualche modo inserà nel gioco, quindi è lei, e si capisce anche dalla visione che la serie ha, netta, a livello registrico, che lei è il lato cattivo, cioè è violento, quello che non ha pietà, perché se Kathleen, Mel, Jace hanno ucciso, vai, per difendersi, invece lei con i suoi uomini uccidono anche quelli che sono a terra, come per dire, siamo sicuri, come faccio io in Skyrim e altri giochissimi, proprio, siamo sicuri che è morto, uccidiamoli ancora, infatti fa la guardia del corpo, il perimeso è sicuro, lo fa, vedremo, crede la serie, siamo qua, sono una bellicosa, no, mi piace molto questo personaggio, è quello che più attendo, vediamo, un po' dito corto, e basta, questi scontri sono bellissimi, bellissimi, e manca Jinx, no, però è come se ci fosse, cioè mi sarei aspettato un'immagine di montaggio dove lei spalanca gli occhioni, però è lì, si è ordinato l'attacco, chiaro che aveva un piano, quindi Jinx dalla prima stagione è proprio evoluta, perché è una ragazza intelligente, non è solo super sexy, è pazza, e fa le cose strane, no, è intelligente, è un joker, perfetto, un joker al femminile, perfetto, cosa che Sofia Falcone sembra non essere più, a me dispiace, questa è la prima puntata, sono i superi per domani, guarderò la seconda puntata e ve la porterò, va bene, domenico, e allora, voi, cosa ne pensate, iscrivete qua sotto, e commentiamo, ciao ragazzi, queste sono le serie belle, queste sono le serie belle, i film belli, god.